Signor Presidente, mi avisa, mi talaga il debate arriva Bokrotin Scamber, tuoi di tutti, eccetera per il debate arriva, il tema è, mi targisca di remarcare che sta stranando, ma sopita, che sta proponendo che non voglio, tuoi di tutti, e mi dice che riferisca il debate che noi stiamo arriva al dialogo sociale. E' critica di opposizione tabata, con dialogo sociale e accordo non con il governo, ti pone un pressione irrusta arriva al Parlamento. Il Parlamento sta proponendo un bell'espel dove è accordo di dialogo sociale con il governo e con i representanti di Trajadona e doi del lavoro delle nostre comunità. Un' base ampia che non prometto, il Parlamento è nettamente partito di opposizione, il Partito MEP avisa che sta proponendo il Parlamento buona di pressione, che sta proponendo il Parlamento bell'espel. Noss' posizione tabata e sta, che il governo può arrivare a quale accordo che vuole, il governo può arrivare a quale lei che vuole. E' ultima parola che sta nel representante di Pueblo che ha avuto il Parlamento qui. Il Parlamento qui sempre ha l'ultima parola. Noss' posizione arriva a qualche accordo. Noss' posizione attenzione, che si non ha proponato un manejo sostenibile e mi dici, mi ragazzi, mi raffresca la mente di oposizione via mazzo. Noss' posizione attenzione, il governo di MEP lo ha ejecutato il Consiglio di National Commission pubblico finanziario.